Un attacco delle forze ucraine nella regione di Lugansk, controllata quasi interamente dalla Federazione Russa, nell'est del paese invaso, ha distrutto diversi piani di un edificio residenziale. Almeno tre le vittime e 35 feriti, compresi i bambini, ha denunciato il Ministero Russo per le situazioni di emergenza. Erano armi americane a tuo Nato subito dopo Mosca. Fonte ucraine hanno riferito che nel Lugansk è stato colpito un deposito di petrolio russo. Oggi il segretario generale della Nato, Stoltenberg, è tornato a ribadire che le forze armate ucraine hanno il diritto di colpire obiettivi legittimi in Russia. E mentre la Federazione Russa ha rivendicato la presa del villaggio di Paraskovievka, nella regione di Donetsk, le autorità di Cuba hanno annunciato che uno sottomarino russo a propulsione nucleare che non trasporterà armi nucleari visiterà l'Havana la prossima settimana. Gli Stati Uniti ritengono che l'esercitazione farebbe parte di una più ampia risposta russa al sostegno degli USA a l'Ucraina.